Se svolta sabato scorso al liceo scientifico statale Leonardo di Agrigento la prima giornata d'apertura al territorio dedicata all'open day al prossimo anno scolastico. Dalle ore 15 alle 19 circa 250 studenti delle scuole medie della provincia di Agrigento accompagnati dalle proprie famiglie hanno trascorso una esperienza indimenticabile. Una numerosa formazione di docenti, studenti, personale ATA guidati dal dirigente scolastico dottoressa Patrizia Pilato ha tenuto il ritmo, l'entusiasmo e la professionalità della nuova preside assieme alla nomea di un istituto che è storia di una regione e se sempre distinto in ogni città europea grazie ad una progettualità ampia, costante ed innovativa. Eccellente dinamica, sobria ed elegante è stata l'accoglienza con l'ausilio di tecnologie moderne grazie anche alla collaborazione dei ragazzi e delle ragazze manifestata nella proprietà del linguaggio e nella esplicazione dei contenuti sia lungo i percorsi che nelle esperienze laboratoriali. Una atmosfera di disponibilità familiare gioiosa ha reso i visitatori partecipi, consapevoli e soddisfatti per la particolare esperienza vissuta.